ciao a tutti oggi vi parlo della mia guerra sì perché io una guerra personale con adesso vi faccio vedere con chi con i calamari e si a me i calamari piacciono tantissimo e mi piacciono soprattutto se sono fritti si cucina in vari modi però fritti sono diciamo la morte loro diciamolo proprio vengono buoni che allora prima di tutto vi do un consiglio infarinate lì nella farina di grano duro perché è soffritto più leggero che se usaste quell'altra diciamo la doppio zero e allora cosa questa guerra dei calamari riesco a capire quando ho finito e pronto quando si scatena questa guerra praticamente il calamaro si vendica e spara spara addosso a chi addosso a me che l'ho fatto friggere ma questa cosa succede sempre sapete è una cosa micidiale ha provato addirittura a spararmi attraverso gli occhiali pensavo almeno di avere un minimo di protezione cioè mio marito ci ride un po su questa cosa e mi dice ma scusa e la friggitrice usa la friggitrice no potete esattare sì è vero il problema è che me lo fa pure con la friggitrice perché ha fritto pronto cestello su rigitrice spetta alto il coperchio e cosa succede padapan mi sparano addosso i calamari cosa volete farci questo è proprio una guerra che devo combattere fino a fondo perché li voglio mangiare perciò la guerra la voglio vincere il mio modo di vincere proprio quella di gustarmi a tavola va bene non so avete voi anche voi una guerra particolare con qualche alimento scrivetelo qua sotto mettete un like se volete e ciao